Il nostro compito è quello di accompagnare, intanto ascoltare quelli che sono i bisogni, cercare di adattare la conoscenza che esiste e metterla a disposizione. Quindi perseveranza, pazienza sono delle caratteristiche necessarie per compiere questo lavoro. Naturalmente lo sviluppo è implicitamente legato a una serie di fattori. L'Africa rappresenta una grandissima opportunità per la popolazione mondiale perché diventerà sempre di più, perché esistono delle risorse ancora inesplorate. Dobbiamo accompagnare la crescita di questi paesi, naturalmente una crescita inclusiva che parta dalle popolazioni locali, che permetta a queste popolazioni locali di trovare benessere perché ovviamente altrimenti ci sono guerre, come in tante aree di questo magnifico continente ancora ci sono. E naturalmente per far questo il settore primario dell'agricoltura rappresenta un grande potenziale. È stato già detto che il 60% della popolazione dell'Africa vive di agricoltura, produce il 20% del prodotto interno lordo. Si può fare di più, si possono quadruplicare le rese perché ancora mancano le tecnologie, tecnologie che devono essere naturalmente sostenibili. Bisogna lavorare moltissimo sul risparmio dell'acqua e quindi l'irrigazione rappresenta è quello che noi facciamo in termini di formazione, ricerca in questo senso va nella direzione giusta e naturalmente bisogna dialogare anche a livello regionale. Crediamo molto nella collaborazione scientifica e soprattutto nella realizzazione e implementazioni di progettualità che possano coniugare questi nostri mondi e soprattutto offrire un'attività di supporto alla crescita, allo sviluppo, uno sviluppo che sia inclusivo, che sia sostenibile e che possa favorire anche il dialogo fra le generazioni del domani. L'università guarda i giovani e soprattutto attraverso questo dialogo istituzionale fra mondi che hanno ancora difficoltà a interagire possiamo senz'altro favorire la crescita per i prossimi anni. Noi dobbiamo avere una diplomazia europea più capace di incidere nelle crisi vediamo adesso quello suere in Siria, vediamo i segnali arrivare nel corno d'Africa vediamo le situazioni del Sudan, il Congo, il Kivu eccetera. Per quanto riguarda il discorso sullo sviluppo, l'Africa si sta sviluppando il PIL è cresciuto stabilmente del 5% negli ultimi 10 anni e gli spostamenti per motivi economici sono più intercontinentali che verso di noi. Quello che a noi capita di vedere sulle coste italiane di Lampedusa è il frutto di crisi irrisolte che vanno quindi risolte.